Musica Si preannuncia una seduta di Consiglio Comunale Fiume, quella in programma domani, martedì 5 dicembre, con inizio alle ore 16. Infatti, sono ben 13 i punti iscritti all'ordine del giorno. Dopo le consuete comunicazioni del Presidente e del Sindaco, il Parlamentino sarà chiamato ad approvare il bilancio consolidato relativo all'anno 2022 e ben tre ratifiche di variazione di bilancio in virtù di alcuni finanziamenti ottenuti dall'Ente. Il Consiglio Comunale, inoltre, nella seduta di domani, approverà lo schema di contratto per l'affidamento dei servizi cimiteriali. Spazio anche all'adesione alla campagna di sensibilizzazione sociale post-occupato contro la violenza sulle donne. Tra i punti all'ordine del giorno, anche l'aggiornamento del Piano delle Allenazioni e Valorizzazioni per l'anno 2023 e l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale 2023. In aula, anche alcuni argomenti di natura prettamente tecnica ed urbanistica, come la verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricate da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, e l'approvazione dello schema di convenzione per il riassetto delle dotazioni infrastrutturali del complesso produttivo ex ceramica cava di Viale Riccardo Romano. Infine, su proposta di alcuni consiglieri comunali, ed in particolare Canora, Giordano e Gambardella, l'assise affronterà anche la problematica relativa ai centri di aggregazione anziani.